Crutch, bind, set. Ciao ragazzi e amici del canale Dampat Rugby, video serale per chiacchierare un po' questa sera delle convocazioni di Kieran Crowley per il 6 nazioni. Il 6 nazioni 2022 che inizierà il 6 febbraio a Saint-Denis, a Parigi, contro la Francia, mentre l'Irlanda giocherà la prima giornata con il Galles e la Scozia con l'Inghilterra. Perché parlare di queste convocazioni? Beh, prima di tutto perché è un evento che si aspettava, si aspettava da tempo. Era stata creata anche una certa atmosfera di suspense, no? Prima di questo evento. Era stata creata da due o tre cose. Prima di tutto Kieran Crowley stesso, nell'ultima finestra autunnale, aveva annunciato che forse ci sarebbero stati questi annunci importanti di giocatori internazionali che avrebbero scelto la nazionale italiana come ritorno al rugby internazionale dopo tre anni che non avevano giocato con la propria nazionale. E quindi ci si è scatenati, no? Il mondo online del rugby italiano fatto di social, fatto di forum, fatto di giornalisti, di piccole testate o di portali rugbyistici si sono scatenati con congetture, con idee. Io stesso con Otto ieri abbiamo lanciato dei nomi, no? Abbiamo sparato dei nomi, avevamo parlato di Lozovski, di Dino Lambe, eccetera, eccetera. E quindi si era creata questa attesa. Questa era la prima delle ragioni. La seconda delle ragioni era sapere cosa ne sarebbe stato dei giocatori italiani Convocati, quindi chi sarebbero stati i 30-33, quello che avrebbe scelto Kieran Crowley per andare a fare questo primo raduno pre-Six Nation E poi c'era il grande tema Paris, no? Questi erano i tre grandi temi che si aspettavano oggi Il tema Paris perché? Perché la federazione stessa nell'annuncio che aveva fatto, nel cartellone che aveva fatto online aveva messo Paris come volto riconoscibile della nazionale italiana Quindi si era detto, ci sarà il grande ritorno di Paris Bene, diciamo che oggi tutte queste grandi aspettative sono state disattese tutte Tranne ovviamente il fatto di sapere chi sono poi i 33, credo se non sbaglio, giocatori che sono stati chiamati per la nazionale italiana Bene, vi racconterò un po' che cosa ha detto Kieran Crowley in questa conferenza di oggi E vi darò qualche piccola idea, qualche piccola opinione da parte mia Ma vediamo innanzitutto chi sono stati i giocatori italiani convocati da Kieran Crowley Allora, per i piloni sinistri sono stati convocati Fischetti, Nemer, Traoré con Nemer che potrebbe fare il doppio ruolo, può giocare sia a sinistra che a destra Piloni destri, Ceccarelli, Pasquali e Zilocchi Mi viene un sorriso perché Crowley con il suo inglese l'ha nominato con il suo Italianlish L'ha nominato Gesù invece di Giosuè, ha detto Gesù Zilocchi Abbiamo imparato un po' di cose oggi da Crowley Lo dico con molta simpatia, io sono assolutamente, come si dice, alieno alla polemica Quella sulla lingua inglese, eccetera eccetera Va benissimo che parli in inglese se quella è la lingua in cui riesci a esprimersi Punto e basta, abbiamo quello che abbiamo Tallonatori, qua c'è la prima grossa sorpresa Faiva, Lucchesi e Nicotera Tutti e tre del Benetton Benetton che ha avuto ben, se non sbaglio, 23 giocatori Dopo magari conto meglio Ma le Zebbre sicuramente ne hanno avuti 5, solamente 5 Quindi l'altra grande notizia, diciamo, di giornata È che questa convocazione è totalmente sbilanciata verso Treviso Le Zebbre che stanno vivendo un momento complicato Dopo parleremo anche della giustificazione che dà a Kiran Crowley Al fatto che ci siano così poche Zebbre dentro una convocazione Mi viene sempre sta parola convocatoria Perché qui in Spagna si dice convocatoria Non credo che in italiano si dica convocatoria Convocazione, convocazione, no? Sì, ditemi se... E poi, quindi, Faiva, Lucchesi e Nicotera Faiva che ha una sola presenza È stato da poco naturalizzato Lucchesi giovanissimo e Nicotera altrettanto giovane Nicotera è uno dei sei esordienti Anche qui, non vorrei sbagliarmi con i miei numeri Ma almeno questo è quello che ci hanno detto Nicotera, Alafi, Menuncello Marin e Dare Sì, il conto della Fime non ce l'ho Marin e Dare, ne manca uno Mi sembra che avevo letto sei esordienti Vabbè, dopo rifacciamo i conti Ah, è Zuliani, è Zuliani, è Zuliani Sei esordienti Seconde linee Cannone, Fuser, Ruzza e Sisi Terze linee, tutta la terza linea della Benetton Treviso Tutta la terza linea della Benetton Rugby Treviso Quindi, Alafi, Lamaro, il capitano Negri, Pettinelli, Stain e Zuliani Poi andremo a vedere un po' alcune di questi reparti Uno per uno Mediani di mischia Bralei, Fusco Catalogato qua come Fiamme Oro Però in forza anche alle Zebre E Varney, Gloucester Mediani d'apertura Dare, Rovigo e Treviso Garbisi, Montpellier E Marin Marin che gioca a Treviso Centri Tutti Treviso anche qui Quindi due reparti Totalmente marcati Treviso Terze linee e Centri Se i centri ci aggiungiamo anche Menoncello Che secondo me ha più senso Nella lista dei centri Sarebbe comunque tutta Treviso E quindi qui abbiamo Naccio Brex, Morisi e Zanon Ali Estremi Abbiamo, attenzione Ali Estremi Abbiamo Mi fermo su sta parola Estremi Perché abbiamo un problema innanzitutto Comunque abbiamo Bruno, Ioane Menoncello Mori e Padovani E' chiaro che ci sono dei giocatori Come Menoncello E anche Mori Che all'occasione potrebbero giocare anche Centro La prima cosa che salta subito all'occhio E' che non abbiamo Estremi Non abbiamo Estremi Perché abbiamo solamente Padovani Che tra l'altro Gioca da Estremo Però anche lui Non è che sia proprio un Estremo puro Padovani ha giocato d'apertura Ha giocato d'ala E poi adesso Sta giocando spesso Spesso da Estremo Soprattutto da quando Smith Da quando si è infortunato Albonos Ed è andato Rino Smith all'apertura Treviso E quindi Padovani E' stato spostato E' stato spostato a Estremo Però fondamentalmente Andiamo a giocarci Un 6 nazioni Senza un Estremo di ruolo Cioè senza un giocatore Che gioca con continuità Tutta la sua carriera Da Estremo Un ruolo così delicato Bene Considerazioni Allora C'è stata questa conferenza E sono state fatte Tante domande A Kieran Crowley All'inizio sembrava Che non funzionasse bene L'audio Della conferenza Un certo momento Tutti abbiamo detto Oh mamma mia Non sarà mica Una conferenza Bulgara Con L'allenatore Che istituzionalmente Dice quello che Fa comodo a lui Anche se va detto Che spesso e volentieri Questi annunci Vengono fatti Senza La conferenza A volte E' semplicemente L'allenatore Che fa l'annuncio Quindi va dato merito All'aprire un dibattito Da parte della federazione Sicuramente E' un simbolo Di trasparenza E va anche dato merito All'inizio io pensavo Che ci fossero pochi giornalisti Invece poi piano piano Sono arrivate le domande Lo stesso addetto Stampa della federazione Sembrava a volte sorpreso Del fatto che gli arrivasse Qualche domanda in più E alla fine I giornalisti italiani Va detto che sono riusciti Un po' a Snocciolare Quasi tutti i dubbi I dubbi dei tifosi Allora Innanzitutto facciamo Diciamo qualche cazzata Facciamo qualche battuta All'inizio Abbiamo imparato qualche cosa Abbiamo imparato alcune cose Grazie Alla pronuncia inglese Di Di Crowley Il fatto che Andremo a giocare Il Sei Nescione Allora ho detto Hai visto Ad Ascione Gli hanno addirittura Dedicato il nome del torneo Vabbè battuta bruttissima Battuta veramente bruttissima Poi abbiamo Sappiamo che abbiamo Acquisito Tra i vari Naturalizzabili Anche un Anche il salvatore Perché Giosuè Zilocchi È diventato Gesù Gesù E poi io Ho scoperto Che Monti Ioane Che probabilmente Ha ragione lui Perché è neozelandese Si chiama invece Aione Aioni Quindi Vabbè Abbiamo anche Monti Aioni Vabbè Sono battute un po' Sul Sulla pronuncia Ecco Di Kieran Crowley Tra l'altro Quella inglese Ovviamente Avrà ragione lui Su quella italiana C'è un po' Da lavorare C'è un po' Da lavorare Però lo diciamo Con grande affetto Kieran Ti sei preso Sta patata bollente Hai Tutta la nostra Hai tutto il nostro Appoggio Sostegno Rugbistico E speriamo Che tu ci porti Ci porti A vivere Qualche piccola Soddisfazione Perché Devo dire Che l'impresa È veramente Veramente Titanica Soprattutto In questo momento Del rugby Italiano Sei esordienti L'abbiamo detto Solo Sei zebbre E 22 Non erano 23 22 Adesso qua C'ho un po' La scaletta Quindi Sono tornato A vedere I dei numeri 22 Giocatori Di treviso Qui C'è il primo Intervento Di Crowley Quando li chiedono Ma le zebbre Come mai Solamente Sei giocatori Delle zebbre Ci sono alcune Esclusioni Eccellenti Come quelle Di canna Quelle di Bigi Magari poi Li andiamo ad affrontare Un po' più nel dettaglio Questi argomenti E lì Devo dire Ragazzi Che Mi è sembrato Che Il buon Kieran Si arrampicava Un po' Sugli specchi Mi sembrava Di sentire Un po' Lo stridolio Delle Dita Perché Perché dice Eh sapete Sono rimasti Bloccati in Sudafrica Hanno giocato Poche partite Non sono Proprio Informissima Allora Probabilmente Ci sarebbe potuto Andare anche Un po' più diretto La verità La verità delle cose È che Le zebbre Non stanno Performando A livello Che gli viene Richiesto La situazione Societaria In questo momento È Molto Caotica C'è appena stato Il licenziamento Di Bradley Tra l'altro Gli è stato chiesto Ma tu che cosa Faresti E lui ha detto Ma questa non è Una cosa mia Non Tra l'altro Poi Questa conferenza stampa È stata integrata Da un'intervista Che è apparsa Su On Rugby E quindi Magari alcune cose Che dico Alcune sono Dell'intervista Altre Della conferenza Può essere Che mi si faccia Un po' di confusione Comunque C'è un momento In cui lui dice È stata una decisione Dei vertici Delle zebbre Non dice Dei vertici Federali Dice Dei vertici Delle zebbre Quindi Fondamentalmente Non venite a chiedermelo A me E io insomma Ho convocato Quelli che ritenevo Ritenevo opportuno Poi Tra i nomi Appunto Che gli vengono chiesti Spicca Diciamo Nelle zebbre Quello appunto Quello di canna E di bigi Quello di canna È più particolare Perché Secondo me L'esclusione Più pesante È quella Di canna Primo Perché non è infortunato Mentre tanti altri La ragione È quella che Stanno appena tornando Da degli infortuni E quindi Vogliamo che mettano minuti Bigi per esempio Lo stesso Paris Di cui Dopo parleremo Tommy Allen È stata data Questa È stata Questa giustificazione Invece Su canna Semplicemente È stato detto No guarda Canna È stato un giocatore Che ha Ha detto Served La nazionale Per molto tempo A più di 50 cap Ha quasi fatto capire Che lui Non ci conta Moltissimo Anche se poi Ha detto Ho parlato Chiaramente Con il ragazzo Ho detto Quello che mi aspetto Da lui E la porta Resta aperta Però insomma Nel momento In cui ha detto Canna È un giocatore In cui Ha servito La nazionale Per molti anni E soprattutto Vedendo i nomi Con cui è stato sostituito Perché Alle aperture Cioè Diciamo Canna viene escluso Uno dice Avranno messo Dei giocatori importanti Allora Garbisi Sicuramente Garbisi Sicuramente sì Ma il nome Che salta Agli occhi di tutti Secondo me Ancora più di Marine Che comunque Ha giocato Pochissimo Insomma È È la prima stagione Reale Con la Benettona Anche se sta facendo bene Però Anche lì Non è che sia Proprio la primissima scelta Cioè Prima di lui All'apertura C'è C'è Sicuramente Alboros E adesso Quando Alboros Non è stato Disponibile È stato sostituito Con Rino Smith Che è un estremo Ma è giusto Che sia così Cioè Leonardo Marine È un giocatore Di 19 anni È giovanissimo Sta facendo delle cose Celse Però bisogna lasciarli Il suo tempo Quindi già il fatto Che venga sostituito Da Marine Lascia un po' pensare Ma poi soprattutto Dalla terza scelta Perché invece Dalla terza scelta È addirittura Da Re Che è un giocatore Che quest'anno Che quest'anno Ha giocato Praticamente Quasi solo In Anzi credo solo Nel Campionato domestico E ha giocato Praticamente sempre Da estremo Quindi Anche lì Viene messo Nella lista Delle aperture E quindi Insomma È un po' particolare È pesante Secondo me Questa esclusione Esclusione di Canne Bene Estremo Lì C'è l'altro Grande L'altro grande Nodo Perché L'abbiamo detto Non viene Convocato Minozzi Non viene Convocato Minozzi Anche lui Per la solita Storia di Torna da un infortunio E deve ancora Prendere minuti Cioè Ci sono dei giocatori Ovviamente Polledri Che vengono Esclusi Lui li nomina Anche alla fine Vengono esclusi Per Infortunio Quindi giocatori Che non saranno Disponibili Durante Sei nazioni E poi c'è tutta Un'altra Un'altra lista Dove dice Eh questi Hanno giocato poco Hanno giocato Senza continuità Vengono da infortuni E devono prima Trovare il tempo Con le proprie Con le proprie Squadre Il problema è che Questo è un ragionamento Che magari va anche bene Quando tu hai Tanta scelta Ma se tu Non hai scelta Non lo so Non lo so Un Minozzi Sicuramente avranno parlato Col giocatore Ma ad esempio Un Minozzi Che è Probabilmente Oggi come oggi Il migliore estremo Che abbiamo Non portarlo Al camp di preparazione Del Six Nation Perché deve fare Qualche partita Col suo club Ecco può essere Una decisione Una decisione Che ci Che lascia Qualcun Quanto meno Qualche dubbio aperto Anche e soprattutto In considerazione Del fatto Che poi non viene Convocato qualcun altro Cioè non è che ci Che ha chiamato Per dire Capuozzo Angi Capuozzo Anche lui è stata data Più o meno La stessa La stessa Ragione Più la convocazione Di Capuozzo Sarebbe stata importante Anche per catturarlo Questo giocatore Perché è un giocatore Che gioca in Francia Nel Pro De Deux Ma in settimana Sono venuti fuori Ad esempio Voci Di squadre Di primo Di primo livello Come lo stato Lusani Che si stanno Interessando A questo giocatore Quindi non farebbe male Capparlo Catturarlo Ma soprattutto In assenza di un estremo Cioè non abbiamo Un estremo Tranne Padovani E E quindi Nemmeno Capuozzo E nemmeno Trulla E nemmeno Trulla Che Vabbè Non aveva fatto benissimo L'anno scorso Però comunque Aveva già Un po' Gli avevamo dato Un po' Di esperienza internazionale Avrebbe aumentato La quota Zebre E comunque Uno dice Cioè se tu ti metti Nei panni di Trulla Tu dici Cioè Non c'è praticamente Nessun estremo E così E nemmeno così Mi convocano Qualche domanda Te la fai Il che Probabilmente è positivo Che si facciano Che si facciano Queste domande Però diciamo Che Abbiamo Un problema vero Secondo me In quella posizione Che ci sono Delle soluzioni Arrabattate Dove si può Spostare Qualche pedina Eccetera Eccetera Sì Certamente Per esempio Gli è stato chiesto In conferenza stampa Il discorso Di Darè Darè E quindi Cosa succede Va a giocare Dietro Garbisi E se va a giocare Dietro Garbisi All'apertura Che ci va Marine Va bene Ma ci troviamo A giocare Contro Per esempio La prima partita Contro la Francia Dupont Ntamac O Dupont Jalibert Con Varney Marine Io Oggi L'ho detto Anche Nel Podcast Di Leone Fuori Il livello Six Nation Il livello Test match Non è lo stesso Livello Dei club È un livello Molto Più Più Alto Dal punto di vista Degli impatti Fisici Dal punto di vista Della velocità Delle prese Di decisione Dal punto di vista Del livello Atletico Tattico E Di skill Insomma Quindi Secondo me Lì c'è un problema Poi un problema C'è un po' Anche in altre zone Ad esempio In seconda linea Però quello È difficilmente È difficilmente Risolvibile Oggi come oggi A meno appunto Di portare dentro Naturalizzazioni In prima linea In qualche maniera Ci si arrangerà Dobbiamo fare a meno Di Riccioni Così come Dobbiamo fare a meno Di Polledri E Paris Ecco Allora Vorrei aprire un po' Un discorso Sul capitolo Paris Da esterni Da persone che guardiamo Fuori le cose Io più che mai Vivo a Barcellona E non sono in Italia Da un sacco di anni C'è un po' L'impressione Che sia stata Gestita In maniera Non proprio Chiarissima Questa cosa Del ritorno di Paris Perché appunto Viene messo lì Come figura Simbolo Della nazionale italiana Allora E poi Non viene convocato Bene È vero È vero che la terza linea Che ha convocato È una terza linea Di tutto rispetto Tra l'altro È probabilmente L'unica Parte Del campo Dove L'unico ruolo Dove ci preoccupiamo Meno Perché abbiamo Comunque la terza linea Benetton Anche lì Occhio Perché La terza linea Benetton Io la Benetton La seguo tutte le settimane Bella squadra Però non è la terza linea Degli All Blacks Comunque Abbiamo La terza linea Benetton Con gente Come Lamaro Pettinelli Che sta facendo Molto molto bene Negri La FI Stain E Zuliani Che sarà esordiente Però andiamo a scontrarci Con delle signori Con delle signori squadre Detto questo L'apporto di Paris E quale sarebbe Sarebbe potuto essere Allora Le terze linee Trevigiane Hanno C'è Lamaro Capitano Che ha 23 anni Manuel Zuliani Ha 21 anni Pettinelli Ha 25 anni E un cap Alla FI È già È già maturo Però ha zero cap Internazionali C'è L'unico Gli unici due Che hanno un po' di esperienza Sono Stain Stain E Lamaro E poi La Aspetta Speriamo che Non si sia Non si sia Non so perché Ha un problema di batteria Speriamo che Il video Non si sia interrotto Gli unici Insomma E poi comunque In generale Tutta la nazionale È giovane È giovane Ha pochi cap Quindi Quale potrebbe essere Il valore aggiunto Di Paris Allora Se parliamo di gioco Ovviamente Paris può apportare qualcosa Però stiamo parlando Di una o due partite Cioè Non è che si costruisce Nel medio Lungo periodo Allora Il grande valore aggiunto Di Paris Si era sempre detto Potrebbe essere Quello di Portare la sua Conoscenza La sua leadership Aiutare Lamaro A crescere Come capitano Aiutare I ragazzi Ad avere fiducia In se stessi Perché Noi Diamo Le chiavi Di questa nazionale A gente Appunto Di 21 22 23 anni 19 20 Insomma Quindi Il ruolo di Paris Dovrebbe Poteva essere Quello Poteva essere Quello Dell'esperienza Più che Quello Del gioco Apportato Poi ovviamente E poi c'era La terza cosa Il fatto di farvi Fare la passarella Finale Poi Finale Perché L'abbiamo deciso Noi Aspettiamo che lo dica lui Magari Io dico sempre C'è C'è Un certo signor Tom Brady In NFL Che gioca 45 anni Quindi insomma Prima di dire Che sia finale Facciamolo dire Ai giocatori Bene Però se non viene Convocato dall'inizio Tutto questo discorso Casca No? Casca il palco Perché allora Si che viene solo A fare la passarella Finale Allora si che magari Addirittura Un corpo estraneo E a qualcuno Allora si che magari Li da fastidio Se invece Avessimo portato Parise Dall'inizio Io capisco Che avrebbe perso Una mezza partita Con il Con il Tolone Però avrebbe Avrebbe fatto parte Di tutto questo Procedimento Invece portare Parise così Non mi sembra La scelta migliore E lo dico io Che sono proprio Un fanboy Di Parise A me Parise piace Tantissimo E' un giocatore Che io considero Uno dei migliori Giocatori Al mondo Di sempre Soprattutto nella sua posizione E probabilmente Il miglior giocatore Italiano Di tutti i tempi Non me ne vogliano I vari Dominguez E Non lo so Dominguez Ok E Castro Giovanni Dai Mettiamoci dentro Anche Castro Giovanni Però vabbè Il secondo Parise è il miglior Giocatore italiano Di sempre Però ripeto Il valore aggiunto Di Parise Sarebbe stato quello Invece così Ce lo perdiamo Ce lo perdiamo Un po' Bene Altri temi Che sono stati toccati Sempre restando In argomento Terzeline E' interessante Come Crowley Abbia dato anche Le posizioni Quindi Ha detto Che al numero 6 Cioè Si va per coppie Al numero 6 La coppia Dovrebbe essere Negri Cioè Le varianti Sono negri O pettinelli Televiso Per adesso Sta preferendo Preferendo Pettinelli Tutti dicono Negri Ma secondo me Adesso Come adesso E' più in forma Pettinelli All'open side flanker L'amaro E Zuliani Vabbè Qui è chiarissima Il capitano E' però interessante Avere Zuliani Lì a imparare Da l'amaro Ecco Quello si Ce l'ha sempre Comunque Anche nella Benetton Tra l'altro Appena confermato Appena rinnovato Il contratto Zuliani Però Bene 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 Questa opzione E poi Alla fine Stain Al numero 8 Io credo Che in questo momento Alla fine Abbia più Possibilità di giocare Rispetto a Stain Altra cosina Qui Crowley Ha fatto un commento Ha detto Ma ci mancano Un po' Dei giocatori Alti Che magari E' anche vera Sta cosa Però a me Insieme ad altre Due o tre Dichiarazioni Mi ha dato Un po' Il senso Di mettere Le mani Le famose Mani davanti No? Mettere Una cosa Molto Molto italiana Ormai Crowley Si è Abituato Mettere un po' Le mani davanti Ma non serve Che lo dice Cioè lo vediamo Però io credo Che il problema Lì non è che siano I centimetri Delle terzeline Bene Del problema Aperture mediani L'abbiamo già detto L'abbiamo detto Soprattutto dell'aperture Sui mediani Anche lì Il grande problema Veramente Siamo secondo me In difficoltà Perché abbiamo Un Varney Che non sta giocando A Gloucester Lì Crowley Ha detto Guardate Sti ragazzi Non giocano Anche perché I club inglesi Non sono interessati A farli giocare Uno Per far crescere Per far crescere I propri I propri giocatori Due Perché la RFU Finanzia Chi fa giocare Di più I giocatori inglesi Quindi Bisognerebbe In qualche maniera Riportarli a casa Questi giocatori Bene Cose federali Vediamo Io sono Un grande sostenitore Di Varney Al Benetton Treviso Ma vedremo un po' Quello Quello che succede Però anche là Un po' Mani avanti Un po' Mani avanti E poi Lì c'è Fusco E E Callumbrale Callumbrale Alla fine Finiranno Io credo Per giocare Un po' Tutti e tre Un po' Tutti e tre Il problema è che Non abbiamo una soluzione Veramente valida Allora Varney Ci sono C'erano delle partite In cui ci era piaciuto Molto A me era piaciuto Mi piaceva molto All'inizio A Gloucester Quando aveva anche più Continuità di gioco Era E Molto Molto bravo Nelle linee di sostegno Di appoggio Quindi Le linee di sostegno In attacco Le famose Cheating line Dove Dupont È il maestro Il ministro Dell'interno Lo chiamano In Francia Però Con l'andare del tempo Si è evidenziata Un po' Una fragilità Difensiva E quando gli attacchi Iniziano a capirlo Iniziano anche a puntarlo No Quindi questo potrebbe essere Questo potrebbe essere Un problema Sicuramente È un buon piede Ecco Io ho fatto un ragionamento Bene Buon giocatore Varney Buon giocatore Varney Però Quale dei nostri giocatori L'ho detto anche al podcast Quale dei nostri giocatori Secondo voi Sarebbe titolare In Anche una sola Delle altre Delle altre contendenti Al Six Nation Io pensavo Probabilmente Quello che si avvicina Di più È Garbisi Però Anche Garbisi Non so Se sarebbe così scontato Togliere il posto A Sexton A Marcus Smith A Adam Bigger A Finn Russell A Antamak O Jalibert Bisogna farlo questo ragionamento Perché quando noi ci crogioliamo Del nostro Va bene Poi bisogna metterlo nel contesto Perché Anche perché È sempre lo stesso Garbisi È leggermente più semplice Fare bella figura nel top 14 Rispetto al Six Nation Perché Poi Garbisi Le sue belle partite Le ha fatte e le farà Ed è un ragazzo Su cui va costruito Quello che non va fatto È appoggiare il peso Di una nazione Rugbistica Sulle spalle Di un ragazzo di 21 anni Perché potrebbe essere Controproducente Questo voglio dire Che giochi Che abbia i suoi minuti Che faccia le sue cose Però pensa tu Un Garbisi Quando sa che Caspita Se sbaglio Se esco Se mi infortunio Entra Marine Oda Re Cioè Ragazzi ancora più piccoli di lui Ancora più piccoli di lui È un peso È un peso Cioè Era diverso Dire magari Se sbaglio Vabbè C'ho Tommy Allen C'è Canna In qualche maniera No La stessa cosa vale Per i mediani di Mischia No E la stessa cosa vale Anche un po' per Menoncello Per esempio Menoncello Che in questo momento Secondo me È il centro più forte Che abbiamo Cos'è Deve andare a coprire Cinque posizioni Deve Deve tenere lui in piedi I centri dell'Italia Non lo so Non lo so Bene Questi insomma Sono tutti i dubbi Che mi sono nati oggi Dubbi a cui spero Troveremo delle risposte Alcune sono impossibili Da trovare Cioè alla fine Non è come nel calcio Che alla fine Diciamo Ah ma non ha portato Che ne so io Quando c'era il dubbio Se portare o non portare Baggio Ecco No Non è così Non è così Non stiamo parlando di sta roba qua Stiamo parlando del fatto Che non si sa Se portare o non portare Un giocatore Che sta giocando male Nell'ultima squadra Dello URC Ecco Bene Poi internazionali La famosa domanda Cioè quello che tutti aspettavamo Innanzitutto ha detto una cosa Never say never Mai dire mai Devono fare la differenza Ha detto Quindi ce ne sono due o tre Che erano stati considerati Che però secondo lui Non sono all'altezza Adesso qualcuno Ha detto Chissà chi saranno mai Questi perché Visti come siamo presi Chi sono questi qua Che non sono all'altezza E altri due o tre Che invece probabilmente Hanno per ora Detto di no E ha detto anche una cosa interessante Vabbè qualcuno Sta ancora decidendo Per quale nazione Vuole giocare Ovviamente lì si riferisce All'Einag E altri invece Hanno detto no Perché Dire sì all'Italia In questo momento Potrebbe abbassare Il loro valore Contrattuale Con il club Siamo arrivati a questo punto Cioè Un giocatore internazionale Che Il club gli dice Ascolta Se devi andare a giocare Con l'Inghilterra Ho capito Però se devi andare Per giocare con l'Italia Allora Noi non ti paghiamo Gli stessi soldi Perché nelle finestre Internazionali Non ti avremo a disposizione Un po' quello che ha detto Il presidente del Tolone In questa settimana Ecco Questo è un E' un discorso A cui andrebbe trovata Una soluzione Anche lì Il problema Probabilmente Anche la PIL Dell'Italia No? Perché se la stessa cosa Si fa con Non lo so Si facesse con Appunto con l'Irlanda Con il Galles E' pieno di irlandesi E gallesi In Inghilterra Magari gli stessi ragionamenti Non verrebbero fatti Poi ci sono anche nazioni Dove addirittura Se non Il giocatore Non gioca in patria Non viene convocato Eccetera eccetera Bisognerebbe Trovare un po' Un equilibrio Di tutto questo Vai e viene Di giocatori internazionali In maniera che tutti Abbiano la possibilità Di giocare Il rugby internazionale Poi Finiamo con gli obiettivi E' stata fatta La domanda La domanda Delle domande A Kieran Crowley Ma in questo periodo Di ricostruzione Qual è l'obiettivo Della nazionale Allora Tanti giornali Ho visto che subito Dopo la conferenza Stampa Sono usciti Con Crowley Vuole dimostrare Credibilità E rispetto Che è vero Sono due cose Che ha detto Però come le misuriamo Cioè Allora Visto che vincere partite Non è Ponderato Poi magari Una sorpresa Ci viene fuori Però oggi Come oggi Vincere partite Non è ponderato E' probabile Che l'Italia Parta tipo A quota 10 Praticamente Tutte le partite Che va a giocare E E allora Quali sono Qual è la misura Su cui noi I parametri Su cui noi Andiamo a misurare Il Le prestazioni Dell'Italia E allora Lui ha detto Credibilità Identità e rispetto Questo Non è tangibile Cioè Come facciamo noi A sapere alla fine Se abbiamo guadagnato Credibilità e identità e rispetto Tra l'altro Non è che non ce li abbiamo mai avuti Cioè Ci siamo lamentati Per anni Delle sconfitte onorevoli Cioè Per anni E anche poco tempo fa Ci hanno fatto i complimenti Ma anche nella partita Con gli All Blacks Ci hanno fatto i complimenti Ci hanno detto Ah Bella Italia Blah 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 Bene Quindi Io Questa parte La Tenderei A girare pagina No E a dare Dei valori Misurabili Allora Aggiunto Vediamo Tra le righe Quello che sono riuscito A captare Aggiunto Devono fare La differenza Aspetta Eccolo qua Improve On field performance Ok Quindi Migliorare La performance Sul campo Anche questo Cosa vuol dire E poi ha detto Due tre cose Ha detto L'Italia Nell'ultimo Sei nazioni Ha avuto La difesa Che ha ricevuto Più meta Quindi questo È un parametro Misurabile Che lui Si propone Di andare A migliorare Andremo A verificare È stata La squadra Con più calci Di punizione Contro Qualcuno Scherzando Nel chat Ho visto Che scriveva Vabbè Non ha convocato Biggi Già su questo Risparmiamo un po' Di calci Di punizione Contro Cattiveria Gratuita Magari E quindi Questi sono Già due parametri E poi Sull'intervista A Rugby Ha aggiunto Altre cosine Ha detto Vogliamo e dobbiamo Migliorare In tanti momenti Del gioco Soprattutto Nell'area Del contatto E nel gioco Aereo Sono due fasi Che abbiamo interpretato In modo deludente A novembre E poi ci sono Le fasi statiche Mischia e rimessa Laterale E tutto ciò Che concerne il drive Dobbiamo creare Delle palle veloci Quindi Ricapitolando Migliorare la difesa Migliorare la disciplina Creare palle veloci Migliorare il drive Migliorare le fasi Stare Migliorare tutto Ecco a me piacerebbe Piacerebbe Che venisse Venissero dati Dei parametri Su cui noi Possiamo almeno Dare un giudizio No? Cioè Bene Avevi detto Che questa cosa L'avremmo migliorata E migliorata Ne ha dette 6-7 Vediamo Speriamo Veramente Siamo tutti Siamo tutti lì Attifare per l'Italia Però io E probabilmente Sei in azione Dove sono più preoccupato Di tutti Detto questo Vi faccio Vi faccio un esempio Vi faccio un esempio Io vivo a Barcellona Un esempio calcistico Il Barça Sta ricostruendo Ci sono dei ragazzini Di 20 anni Che giocano 19 17 18 20 Sta ricostruendo Va bene C'è Gavi Ansufati Ieri hanno Hanno perso Il classico Eccetera E questo Viene capito Sono stati fatti Degli errori gravi Anche lì All'interno del Barça Si è andato Messi Perché avevano sbagliato A fare i conti Cioè Un errorino da poco Però La gente capisce In questo momento Capisce Perché è stato preso Xavi Perché Questa ricostruzione Riparte dai giocatori Della cantera Perché riparte Dallo stile E dall'animo Di gioco Del Barça Quindi c'è un progetto Ben visibile Agli occhi Dei tifosi Che per questa ragione Sono anche disposti Ad avere Pazienza Bene Mi piacerebbe Che piano piano Non dico che Deva avvenire In un giorno Ma questo Fosse quello Che si inizi A intravedere Anche nel rugby Italiano Ossia Noi possiamo Anche avere pazienza Perché stiamo Ricostruendo Sulle macerie C'è una differenza Il Barça Ricostruisce Sulle macerie Di una squadra Super vincente Noi ricostruiamo Sulle macerie Degli insuccessi Inutile che ce lo nascondiamo Però possiamo Anche avere pazienza Però bisogna capire Qual è il progetto Bisogna capire Qual è il nostro Il nostro DNA Qual è il nostro stile Dove stiamo andando Va bene E ogni tanto Questi Questi punti Di riferimento Ci mancano Detto questo Ragazzi Forza azzurri Forza ragazzi Speriamo che Questo 6 nazioni Ci regali Tanto bel rugby Indipendentemente Dall'Italia Speriamo che I nostri ragazzi Giovani Prendano coraggio Che Sfruttino Questa opportunità Perché per loro È una opportunità Cioè per un Dare Trovarsi Nel gruppo Di un 6 nazioni È una opportunità Incredibile Va bene Per un Menoncello Trovarsi a 19 anni A giocarsi Un 6 nazioni È una opportunità Incredibile Per un Garbisi Un Garbisi Perché C'ha 21 anni È un'opportunità Incredibile Per tutti questi ragazzi È un'opportunità Incredibile Speriamo che La sfruttino Speriamo che Crescano E speriamo Di iniziare A vedere Un po' Un po' Di luce Ciao Buon rugby A tutti E ci vediamo Alla prossima Ah Prima di chiudere Il solito appello Ve lo chiedo Non così Fate subscribe Se non siete sosscritti Mettete Un like Attivate la campanella Perché Perché vogliamo Fare crescere Questo canale Voglio fare crescere Questo canale Come vedete Ci sto mettendo Tantissimo impegno Sto cercando informazioni In francese In inglese In spagnolo Si cerca Di creare Di creare Rumore E opinione Attorno allo sport Che tutti amiamo E se mi date una mano Un sostegno Rigbistico A far crescere il canale Ve ne sarei Enormemente grato Magari anche Condividendo Uno dei miei video In qualche canale In qualche chat Whatsapp Delle vostre squadre In maniera Che anche Si avvicini La gente un po' Più giovane Perché se no Io dico sempre Che ce la Ce la cantiamo E ce la ridiamo Tra Non lo so Over 40 No? La maggior parte Della gente Che si trova sui social A parlare di rugby E invece In questi giorni Ho visto Dei subscriber Che si vede Che sono ragazzi giovani E Se vogliamo Che il nostro rugby Abbia un futuro Non è che ce la possiamo Chiacchierare Tra noi boomer Quindi sarebbe bello Anche avvicinare Un po' A questi contenuti Di gente più giovane Bene Vi saluto Vi mando Un bacio grande Un abbraccio E a presto Ciao Ciao